Ciao a tutti e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video della Classica and Fun Survival e penso sia il primo episodio in cui mi provo dire classica all'inizio Allora, ho abbattuto un po' di alberi per ottenere del legno questo legno l'ho messo a cuocere in buona parte per ottenere il ciarco l'ho fatto delle torce, ho preso un po' di frecce, siamo a 42 frecce spero mi bastino per fare l'esplorazione di questo episodio e quello che voglio andare a fare è per l'appunto esplorazione mi spiego, voglio andare a iniziare a conquistare le caverne sotto casa mia perché ormai la casa ce l'abbiamo, abbiamo messo torce dappertutto c'è la barriera, c'è la scala, c'è tutto non dovrebbero esserci problemi di nessun tipo e qui soprattutto non dovrebbe spawnare nessuno quindi siamo messi abbastanza bene da questo punto di vista ora, in questa zona ci hanno abbastanza massacrato le scatole con i mob io voglio solamente capire che tipo di rapporto possiamo noi avere con questi mob beh, intanto la mia spada è mezza rotta, quindi ripariamola e anche il mio piccone potrei riparare ok, il mio piccone intero direi, possiamo scendere per di qua perché se non sbaglio qui c'era qualcosa o sbaglio, scendendo di qui c'erano delle cose c'è uno spawner di cose io ho preso del... ah, è vero, io ho trovato del ferro nello scorso episodio eh, me l'ho completamente scordato ma c'era del ferro e io direi che possiamo scendere da questa parte per iniziare almeno a... diciamo... come si dice? fare amicizia con questi ragnetti perché loro a spawnare spawnano purtroppo nell'aria, a quanto pare, spawnano però dobbiamo comunque fare amicizia perché sono i nostri vicini ce la faccio con questi blocchi? ce la faccio sì, perfetto ciao amici spero che vada tutto bene morto? morto ok, mettiamo anche qui le torch perfetto la cosa bellissima è che questa è sabbia e la sabbia a me serve perché è un achievement quello di creare il vetro quindi alla grandissima mettiamo un paio di torce in più che adesso mi sarebbe a spawnare a qualche merda perfetto 18 pezzi di sabbia non male non male beh, mi basta farne anche semplicemente uno per completare la achievement quindi noi siamo contenti c'è sotto blocco di redstone ma fai vedere c'è altra redstone poi? o è un blocco unico? mi sembra un blocco unico non lo so ma probabilmente servirà anche questo per fare... non lo so probabilmente ah, il compass ecco cosa si è per fare il compass e là sotto c'è un pollo il motivo di quel pollo a me è ancora sconosciuto ma forse qui vicino c'è lo spawner di polli me lo ricordo la scorsa stagione che ho fatto un filo assurdo rompendolo vediamo se riusciamo ad andare qua sotto creiamo signor maiale mi spiace lei deve morire per il semplice motivo che oh, fino a sopra tanto non ci può ritornare la farm con lei non la posso fare tanto vale che muoia qui non lo so, è triste come storia è la storia di Peppa Pig in qualche modo spero di aver fatto anche una rima non lo so tipo... io ho MC Surrey ok allora c'è un po' di zona per... nooo non c'è niente qui c'è solo un pollo così sfattissimo che fa nulla eh, un po' mi dispiace spero ci fosse qualcosa qua dietro se provo a scavare... nulla vabbè vabbè come non detto come detto e sono... sono alla base della farm tra l'altro c'è un pollo ma non so da dove è venuto e non posso farci niente ok capisco 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 ora quello che possiamo fare effettivamente è andare a prendere sottoferro provare a fare un piccone e prendere questa bellissima e simpaticissima roba di redstone voglio dire perchè servirmi mi serve devo farci il compass o il clock una delle due cose insomma una di quelle cose per cui serve la redstone e... e nient'altro volevo farmici una spada ma giustamente allora... che cazzo hai frega della spada eh... cazzo però devo farla la spada me l'ha dato anche l'amico frizz un lingotto me l'ha dato uno zombie se non sbaglio un lingotto vabbè vai facciamoci il piccone vaffangura che tanto col piccone di pietra non posso prendere nulla me lo faccio di ferro non me lo posso prendere le cose almeno quella allora dovemo scendere eccoci qua permesso permesso e bonjour della vita ecco sono entrato francese all'improvviso boom un po' di redstone ce l'abbiamo ora abbiamo anche una... un bellissimo e simpaticissimo piccone di ferro che non so come usare perchè diamanti io non ne ho visti ancora in questa mappa e semplicemente porto la redstone a casa per poi proseguire l'esplorazione perchè devo trovare i dungeon devo trovare i funghi il fungo rosso più che altro che a vostra dieta contiene anche lo spawner di polli io mi ricordo che in effetti era dentro un cacchio di fungo quello spawner che ho rotto miseramente pensavo fosse lo spawner di mob negativo oh mio dio che figuraccio vabbè lasciamo stare passiamo da redstone il piccone di ferro lo lascio comunque qui perchè potrebbe risultare utile e niente l'unica cosa forse conviene andare a dormire perchè anche se siamo nelle caverne di notte ci sono sempre semplicemente più mob quindi dormiamo e poi continuiamo ok rifornimento di meloni super fast abbiamo fatto un pit stop di meloni che è comunque una cosa e possiamo continuare qua non c'è nulla abbiamo appena controllato facciamo un setaccio generale di queste altre zone allora attenta mazzo subitissimamente se vuole tranquillo di qua c'è un bel po' di roba e no 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 e cala esplos esplos che non lo sapevo stiamo calmini tu muori aia tutta roba ci sei solo te qui? raga che culo c'era solo lui ok e qui è pieno di sabbia anche la sabbia vi dicevo serve per un achievement però non ce lo c'è solo sabbia qui c'è solo solo sabbia? solo solo sabbia punto 16? cos'è un evento di pr delle discoteche? non l'ho capito questa che minchia va anche bella profonda ok bene vabbè in effetti siamo comunque belli altini non so se qua sotto c'è qualcos'altro ma no non penso ci sarebbe comunque una un qualche tipo di avvertimento un buchetto qualcosa non lo so ok quindi direi che possiamo proseguire verso il prossimo checkpoint che è questo qui anche che ci siamo già stati che abbiamo preso il melone con tutto quanto però potenzialmente se uno scava in mezzo trova anche altre cose o almeno questo era il piano oh ok qua c'è lo spawner di enderman che è quello lì che abbiamo visto noi prima mmm facciamo così facciamo un ponticello di terra che ci collega a questa zona e proviamo a salire qui intanto per vedere come la situa io ho finito le torci caputana raga ho finito le torci cosa c'è di qui? ok è un po' un casino questo possiamo dirlo con certezza è un po' o è la cagna qua c'è anche altra roba da vedere probabilmente ci siano degli spawner comunque ok però c'è una cosa io ho finito le frecce cioè ho finito le torce o provo a fare un po' una pulizia generale da qui con l'arco che se molte cose non riesco neanche a prenderla uno due e tre è morto non guardiamo sti non t'ho guardato zio non t'ho guardato non t'ho guardato non t'ho guardato non t'ho guardato no no non l'ho accetto vattene via vattene via vado via e poi mi muovo l'ha fatto bene vattene via non ho capito non si sa da dove cazzo è uscito fuori dall'altro oh 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 ho sentito dei rumori non è che questo ce l'ha ancora con me ok non sembrerebbe e poi usiamo la sabbia che tanto mezzo stack e tanta roba ci facciamo anche un po' uno sboffo tantino di torce eccole qua mezzo stack di torce bello lui mettiamo qua c'è un altro po' di blocchi meno altri otto anzi poi ci metterebbe a cuocere anche la sabbia vabbè però possiamo farlo più avanti visto che nelle caverne non ho molta fortuna direi che possiamo spostarci un attimino sull'esterno ah mamma mia le nuvole le odio ogni volta che che le vio manca stasera attiva l'opzione la odio sta roba un po' come l'autogiam ah no è vero qua non c'è l'autogiam allora qua ci possiamo andare io volevo sapere se sono andato o no fino in fondo e non mi pareva e infatti non ci sono andato fino in fondo quindi facciamo una cosa di questo tipo ovviamente con delle torce ogni tanto perchè se ci spawno dei creeper la notte io ci passo sopra e non me ne accorgo sono cazzi ok siamo comunque molto calmini ecco allora cosa c'è qua di bello senso degli zombie ma non so di preciso cos'è che vuol significare là c'è altra acqua e questa non l'avevo proprio vista di qua si può scendere a quanto pare però non c'è comunque nulla un botto di acqua ah le sugarcane sai che le sugarcane è tanta roba cazzo tantissima roba facciamo così io mi butto ok sugarcane è un achievement e ora signore e signori l'abbiamo completato ovviamente bisognerà coltivarle tutto quanto ma quello con calma nel senso basta piazzarle un po' di acqua va bene facciamo il pilarone ignorante perchè tanto l'acqua ce l'ho già a casa ed è anche infinita quindi non mi interessa allora di qua cos'è che c'è ahia buongiorno amico mio spero vada tutto bene se mi colpisci muoio e puttana dicevamo anzi il pilarone ignorante è morto? è morto lì c'è anche un creeper sai che forse se non sbaglio là dietro c'è qualcosa di importante perchè questo va giù che è un piacere piazza dei blocchi piazza delle torce e vabbè se sbaglio il piazza della terra sono proprio messo bene qua sotto su me c'è tanta roba fave fibre è tanta roba ho un po' di coppia insomma non voglio sprecarla sapete cosa vi dico? prendiamo un po' di questa terra e la usiamo per fare il ponte per tornare indietro grande zio grande ok ci siamo giusti giusti ahhh qua sento altri silverfish c'era proprio sotto al culo sicuro mi sento proviamo a cercare un attimino sento anche degli scheletri del vero però sciala e sono qui dentro proprio qui dritto dritto aspetta bisogna fare cose strane mangio un po' di pane quando c'è per me la vita sento un botto di mob sento qua dentro stiamo con il mini ehhh mi sento mi sto anche avvicinando piano piano però mica li vedo ah 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 attenzione ma buongiorno e voi qui? cos'è che ci fate? una festa? avete il permesso del comune? siamo oltre mezzanotte non dovreste far casino cari amici miei cos'è questa cosa? spawner di silverfish possiamo eliminarlo questo l'abbiamo già detto più volte sono a livello 30 tra l'altro buona roba ehhh allora voi state calmini ho delle frecce e non ho paura di usarle lì c'è un altro spawner di silverfish sicuro come la morte boom muori boom muori non prendere silverfish ho preso cazzo e per fortuna che non c'è tutta stone altrimenti madonna era un delirio allora che dite ce la faccio ad ammazzarli questi? vai 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 guarda come muoiono ste formichezze di merda che cazzo ha fatto? un salto della vita muori ok facciamo una cosa di questo tipo andiamo a rompere di nuovo lo spawner alla grande livello 31 ogni spawner un livello beh non male guarda qui sono due a metà livello cazzo stiamo dominando ok anche questi spawner di ehhh di formiche perchè alla fine sono formiche l'abbiamo distrutti io direi possiamo tornare a casa piazzare queste sugarcane per completare anche l'achievement delle sugarcane per l'appunto pecola ma cosa perchè vai su e giù tipo qualsiasi fosse la canzone every day i'm shuffling shuffling ho capito ho tutto un limite e tra l'altro già che ci siamo io il release lo metterei tanto qui che tanto crescere crescere non ti preoccupare crescere crescere anzi non crescere poi prendo un po' di sabbia un buon 16 pezzi e li metto a cuocere perchè così ho fatto un botto di achievement in questo ho sbloccato minimo due achievement e li ho sbloccati cioè cos'è la sabbia e il ehhh sabbia e i sugarcane quindi alla grande facciamo i crash un elettron melone che l'ho spaccato troppo malamente mi sento in colpa l'ho spaccato in queste cose fammi fare crash bravo 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 così bravo 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 quindi ragazzi per questo video è tutto abbiamo sbloccato un bel po' abbiamo trovato un botto di spawn da distruggere infatti ho il livello altissimo la prossima cosa da fare è cercare di ottenere un enchantment table e incantare qualcosa spero una spada di diamanti dobbiamo trovare ancora i diamanti l'ossidiana bisogna fare dobbiamo trovare il fungo rosso con lo spawner di poli che lo spawner di poli è tantissima roba bisogna fare ancora un botto di roba quindi noi ci vediamo nel prossimo episodio mi ringrazio tantissimo per il video di non conoscere mi piace se vi è piaciuto questo video iscrivetevi al canale se ne è ancora un'altra parte se vi saluto ciao ciao